Ciao a tutti ragazzi, sono Giuseppe e siamo in treno, siamo partiti da Catania e siamo arrivati ad Acireale, siamo ad Acireale, abbiamo la cucetta, non la posso fare girare la destinazione mi pare alle 10 giusto a roma e poi dalle 10 a luna a verona mamma sto facendo un video se potessi non soffrire di whatsapp usciranno video a verona